Salve a tutti ed eccoci con le anticipazioni di Beautiful che vanno da lunedì 14 a domenica 20 febbraio. Come sapete tutto ruota intorno a ciò che è successo a Thomas. Il giovane Forrester è infatti finito in ospedale e operato d'urgenza perché affetto da una terribile emoragia celebrale. Fortunatamente l'intervento va bene. Il dottor Finn spiega che a questo punto le allucinazioni di Thomas erano causate proprio dall'emoragia che aveva e quindi ora l'incubo è probabilmente terminato. Per riprendersi totalmente il figlio di Ridge ha bisogno di un po' di tempo e di un assoluto riposo. Per questo motivo una volta uscito dall'ospedale non può di certo andare a vivere da solo nel suo appartamento. Dopo essere stata messa al corrente di ciò, Brooke prende una decisione e comunica a Ridge che ha deciso di ospitare Thomas nella dependance della loro meravigliosa villa. In questo modo potranno tenerlo sotto d'occhio e dargli assistenza qualora ne avesse bisogno. La decisione oltre a piacere a Ridge piace anche ad Hope, convinta che grazie a questo Thomas potrà godere della compagnia di suo figlio Douglas. Ovviamente c'è però chi davanti alla decisione di Brooke storce il naso. Si tratta naturalmente di Liam che non approva il fatto di avere Thomas ancora davanti ai piedi. Per lui il Forrester è la causa di tutti i suoi problemi e nonostante il tradimento fatto alle spalle di Hope, Liam di certo non se ne sta zitto, anzi esprime il suo disappunto. Ciò lo rende davvero furioso. Intanto però lo Spencer continua a discutere con Steffi della notte passata insieme, un segreto che per il momento è meglio che non venga svelato. Liam però non sa che Hope è invece destinata a scoprire tutto.